San Giusto in qualche modo difende la città con la preghiera, come se San Sergio è proprio un militare che lo difende materialmente con la sua lancia, con il suo escudo. San Sergio tra l'altro non è triestino, voi sapete che San Sergio è di Roma, è un romano che viene come militare a Trieste, a Trieste incontra il cristianesimo, diventa un cristiano e poi viene trasferito, perché essendo un militare viene trasferito in Siria dove morirà decapitato. Prima, quando era a Trieste, afferma se vado via e se sarò ucciso, parliamo del 303 quando c'erano le persecuzioni di Occhiziano, vi manderò un segnale che sarà poi tra la barda che come sapete è piombata nel foro triestino. Quindi la barda era l'arma di San Sergio. Fino al 1300 noi non abbiamo nessuna sicurezza di questa labarda, non abbiamo nessuna rappresentazione, per cui è interessante capire che cosa sia questa labarda. E' un ferro sì, però ha delle proprietà tra virgolette miracolose, per esempio non si arrugidisce, non si può indorarlo, non si può dipingere di argento, coprirlo d'argento. Ha queste proprietà che vengono definite miracolose, tanto che qualcuno pensa che, essendo caduto dall'altro, fosse un materiale meteoritico che è stato poi cesellato per formare questa lancia. E' un'arma, come si pensava, persiana, un'arma orientale, oppure semplicemente una struttura che ricopre un bastone che a sua volta portava un gonfalone, in qualche modo, perché lui non ha, per esempio, le lame raffinate di un'arma. Però alla fine tutti sono convinti che sia un'arma che provenga dalle crociate. Nel 1200-1300, infatti, appare le prime descrizioni grafiche sulle monete oppure sui quadri, appunto, di questa labarda. Interessante come il libero comune si sia impossessato di questa figura per proteggere anche il municipio, l'identità civica.